o anche il famoso condominio di Enrico, eccetera, sono tutti i palazzi che lasciano la macchina al tempo che trovano, però ci sono intanto dei elementi decorativi di un certo pari interesse o degli esterni, come ad esempio il Palazzo della Giustizia dell'Inter, dove naturalmente uno solitamente non è inter perché se c'entra non è un buon signore. Appena dopo il consorzio c'è lo Scala Romana. Quando ne parlai più di vent'anni fa, dissi che gli strani ferroviari nelle città erano non tanto una grande opportunità di costruire, come sembra che fosse per chiunque, ma erano un granissimo vantaggio perché erano mediamente alberati, verdi, aperti e quindi erano polmoni verdi della nostra città. Adesso c'è stato qualche esempio, in precedenza c'è qualche tentativo tuttora di riutilizzare queste aree, infatti anche dei parchi o delle aree veri. C'è stato un periodo di cui invece ogni area che non viene costruita è un buco da lì più di casa, e lo sappiamo bene, ed è così che abbiamo perso molte cascine e moltissimi cambi. scala romana. Lo Scala Romana cultiva sul terno anche questo, questi caballoni, dove però erano tanti una cosa curiosa che ho trovato molti anni fa, che c'è tuttora, e quella è una fontana, è una fontana che adesso oggettava, ma è una fontana, perché comunque sia, anche se era un ambiente di lavoro, anche se era un ambiente ferroviario e quindi frequentato proprio da poche persone, quindi non è senza clienti, ok? C'era questa idea che gli ambienti lavorativi non dovevano essere degli orrori, dovevano essere comunque un po' attrattivi, quindi non era una specializzazione della persona, ma era il costruire un ambiente alternativo rispetto a... naturalmente questo già comunque risale a un periodo, posto il più rispetto all'epoca degli industriali dominati, come i freschi, che andavano a costruire villaggi come Caccia di Alta, ovvio che qui siamo comunque di sotto, però il concetto era, non è soltanto un uomo di lavoro, è un uomo dove comunque si vive, e sarebbe il caso forse di ripescare questa, questa vecchia e saggia massima anche ai uomini di lavoro di oggi, dove invece purtroppo molto spesso sembra soltanto che si sia a lavorare con se stessi, che si perdono l'opportunità di avere rapporti interpersonali molto male. Oggi in questo scato rimangono i partiti questi dominali, che sono quelli della centura sud, dove passano dall'I.S. 9, dalla Bairate al Salotto. Si parla tanto di dover realizzare questo spazio per fare dei progetti, francamente ho visto i progetti chiesti agli studenti del Politecnico, mi sono preoccupato perché si andava da uno che come progetto faceva tutto parco, a uno che faccia tutte torri per i cipiari. Non mi sembra che si siano sforzati molto con la fantasia, se questi sogneri detenti che ci aspettano, non c'erano, basta. Vedremo cosa verrà fuori, abbiamo probabilmente anni davanti perché questi sono sempre processi lunghi, sarebbe bello magari se qualcuno pensassi di fare la vera partecipazione chiedendo ai studenti gli abitanti anche che cosa vorrebbero lì. Perché insomma alla fine della programmazione urbanistica della città non è che si fa da volino, come invece molto spesso è stato fatto nei ultimi diciamoci 50 anni per andare dietro un po'. Grazie.